Il sindaco di Prada Lunga, Matteo Parsani, ha ufficializzato nei giorni scorsi la propria ricandidatura per le prossime elezioni comunali. Lo ha fatto dal palco della Bergen Freccia alla presenza del presidente della regione, Roberto Maroni. Sarà appoggiato dalla Lega Nord e da una lista civica sulla cui composizione per il momento Parsani rimane vago. Si tratta di imprenditori, professionisti e persone non provenienti dal mondo della politica. Una vera lista civica che affiancherà il suo logo a quello leghista. A coordinare questa lista dovrebbe essere il suo vice, Tiziano Carrara, uscito recentemente dal gruppo PDL. La ricandidatura di Parsani non è una sorpresa per le minoranze. Anna Bonomi, dei Popolari Democratici, ha dichiarato all'Eco di Bergamo che l'amministrazione Parsani chiude con un bilancio tristemente in perdita. Perdita di consensi, visto il malcontento tra i cittadini, e perdita di uomini, considerando le dimissioni recenti di due assessori che vanno a sommarsi ad una maggioranza da sempre traballante e incerta. Condivide il giudizio Fabio Spinelli di Persona e Comunità che conferma la volontà di dar vita ad un progetto di ampio respiro senza etichette di partito.